Come ti chiami? Marco Grande Marco, da 25 e su Cristian il tuo video Sei pronto? Sei pronto? Eh, abbastanza Abbastanza pronto? No Ma va di occhiare al cammino Dal mare C'è qualcosa da dire prima di saltare? No, una vita tanto e lunga Tanto e lunga? Grazie Ciao ragazzi Grazie Grazie Voglio fare il superman? libero posto, contento libero a posto